Eccoci bentornati su GoGames, siamo su Lords of the Fallen e in questo video andremo a fare un boss opzionale, siamo nella zona della palude, se non sapete come arrivare a questo punto link in descrizione dove andiamo a recuperare questo meraviglioso set, che è il set dell'angelo del vuoto, andremo a vedere appunto il percorso per arrivare fino a qui. Per cui se non sapete come arrivare tranquillamente recuperate il video, recuperate il set e saprete come arrivare in questo punto dove c'è questo mob, sì questo mob, buonanotte, questa NPC, ci potrete ovviamente parlare solo nel mondo dei morti. Quindi attivate il mondo dei morti e andiamo da questa parte, vi mostro la strada per arrivare da questo boss e speriamo di farlo al primo try. Ovviamente fanno fuori tutti perché sennò ci inseguono. E' una roba da pazzi, ce n'era un altro sì. Questa è un po' la rottura ogni volta che si muore, ma vado nello stesso. Qui fanno fuori sto coso. Nozze che botta che mi hai tirato l'anima maccia tua. Paledetti. Qui fate attenzione perché voi avrete delle palle che vi rotolano incontro e le tira la ranocchia, se non sbaglio le sblocca. Lui sono tre palle qui e un altro paio di palle spinose qua in questa zona, quindi fate attenzione. E insomma cercate di non prendere danno via. Spostiamo a posto. L'abbiamo fatto fuori. Qui potete tirare giù questa scala e aprire questo shortcut che è molto molto utile. Io vi ho mostrato la strada da lì, però comunque potete anche prendere questo shortcut qui. Poi andiamo da questa parte e andiamo a scippare la signorina della parete, come al solito. La scippiamo ed entriamo qui dentro. E qui troveremo volto falso. Faccia di cacca per gli amici, faccia di cacca. Allora aspettate che mi baffo l'armetta. Ti ho detto devi aspettare, va bene? Voglio fare dei danni come si deve. Questo tocca colpirlo, è il deletano. E non gli facciamo assolutamente danno. Ne facciamo veramente poco, quindi ci vuole tanta tanta pazienza. È veramente un dito in quel posto. Poi quando apre la bocca ancora peggio. Via via via. Dolore. Dolore. Attenzione perché vi applica lo status ghiaccio e vi va a bloccare la stamina. Tutto maledetto. Ho fatto male al suo giro, eh? L'hai sentito? Eh, l'hai sentito, l'hai sentito. No, adesso l'ho sentito io. Attenzione. Qui rollate di brutto. Qui bisogna schivare. Bravo, se tu ti metti a pecora, noi andiamo da addio. Peccato che si muove troppo. Mamma mia. Via. Essere golosi, essere golosi non conviene mai. Via via via. Via. Mostra. Anzi direi, ecco. Da un po', ecco. Avete visto? C'ho mezza barra. Della stamina adesso. Finché non mi passa questo status maledetto. Perché sono stata un pochino in golda. Ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Noi... Mamma mia ciccio. Sei di una pesantezza. Te lo posso dire? Sì che te lo posso dire? Non ti offendi. Ahio, ammazza che botte che tira. Se ti metti da un altro lato, no? Che ti ripari il culo. Ti vuol dire? Sì, è una parte anatomica. E non ti colpiamo così. Da mo' che era finita la fight. Dagli un po'. Eh, apra la bocca. E adesso ti... Ti struggo. Ecco qui. Prendiamo la maschera dell'ira. Un seme e un martello di precisione. Dopodiché ci scippiamo, come al solito, tutte le signorine che troviamo appiccicate in giro. Vedete? Andiamo a scippare tutto. Ce n'è una lì. Ne troviamo un'altra qui. Scippiamo anche la signorina qui. Scippie. Impressione, corella. Andiamo a liberare il tutto. E lì si aprirà un portale. Un portale. Un passaggio a un portale. Un'esagerazione. Ora. Andiamo da qua. Vi faccio vedere al volo. Venga, venga. Facciamo un po' di tutti. Qui. E' sbotta. Mamma quanta gente. Proprio. Non vogliono che esploriamo i livelli. Hanno fatto dei livelli complicatissimi. Quello da dove è uscito, scusate. Quello grosso. C'è qualcosa che non mi torna. Vieni qui. Mamma mia che stress. L'avete finito? Prendiamo questo. Balsamo purificante. Questa non si apre. Non si muove. Non c'è tantissimo in realtà. Di qua. Almeno. Che abbia scoperto. Al momento. Ma magari mi sono persa qualcosa. Però possiamo andare da questa parte. E tirare giù questa scala. Qui dentro. Troviamo. Un altro droppino. Che non è male. E poi qui possiamo scendere. E arriviamo. Vi mostro. Qui a prendere il rosario. Dell'avanguardia. Barros. E qui. Possiamo. Andare a emergere. Se vogliamo. Cosa che ora. Faremo. Ovviamente. Do solo un attimo. Un'occhiata lì. Perché. La mia memoria. Vacilla un po'. Come al solito. Eh ok. Siamo in questo punto qui. Quindi possiamo. Tranquillamente. Emergere. E qui. Abbiamo tirato giù. Lo shortcut. Vedete. Possiamo scendere. Da questa parte. Faccio vedere dove ci troviamo. Mamma mia la gente. Mica morono eh. Belli e resilienti. Ed è finito. E ci troviamo praticamente. All'inizio del livello. Vedete. Troviamo più o meno qui. Se noi saliamo. Qua sopra. Ma via. Ceviamo da fare. Arriviamo da questa parte. Qui. Apriamo lo shortcut. Del livello. Della palude. Quindi. Molto. Molto. Semplice. E recuperiamo qualche droppino. Tutto qui. Niente di che. Però. Però. Non è male. Detto questo. Giovani. Per questo video è tutto. Come al solito. Ringraziamo. Tutti gli abbonati. Tutti i super grazie. E chi si iscrive. Chi lascia like. Chi commenta. Chi condivide. Grazie mille. E alla prossima. Ciao. 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 Ciao.